Presidente, il professor Pietro Barcellona e il professor Uccio Barone sono sostanzialmente gli ispiratori intellettuali di questo nuovo movimento, lei che cosa ne pensa? Io credo che l'apporto che sul piano di un manifesto programmatico viene dal professore Barone, devo dire al professore Barcellona soprattutto che ha scritto alcune pagine sul Mediterraneo e sulla prospettiva che tutto il sud Italia per la verità, la Sicilia è particolare anche per la sua centralità e per la sua storia, per la sua cultura che ha sintetizzato uomini, popoli, ha saputo farli convivere e armonizzarli, l'unica frontiera e l'unica prospettiva è quella del Mediterraneo, noi purtroppo ormai ci siamo abituati a guardare soltanto a Milano, a Berlino e a Bruxelles, dovremmo avere anche nel rapporto col governo centrale e anche con l'Europa quella libertà di manovra che in fondo sarebbe una sorta di autonomia rinforzata che ci consenta invece di poterci più direttamente rapportare con Tunisi, Rabat, Tripoli, il Cairo, Algeri, ma anche per carità Beirut, Damasco, la stessa Istanbul, la Spagna, la Grecia, cioè questo mare col quale abbiamo in comune tutto, dal clima, con quei paesi, alla terra, alla cultura, all'arte, alle prospettive del turismo, mentre le diversità, le divaricazioni, i conflitti che molto spesso sono legati a fattori economici e sociali, ma anche a fattori religiosi, siamo riusciti nei secoli proprio in Sicilia a farli conviverli e ad armonizzarli. Tutto questo sta scritto nella nota molto interessante del Professore Barcellona, che non potrà che essere uno dei punti cardine di un programma per un partito dei meridionali. Poi ci sono tante altre cose, ovviamente un programma di sviluppo, non può fare a meno di quella perequazione infrastrutturale che sta scritta nella legge 42, quella del federalismo fiscale, sulla quale però il governo intende glissare. I costi standard sì, i piani di rientro per la sanità sì, il saccheggio dei fondi FAS sì, è vergognoso quello che capita nelle varie sedute del Cipe, basterebbe un manifesto con i numeri per far capire come questo mezzogiorno è senza rappresentanza politica adeguata. Pieno di deputati, i quali stanno messi là in fila come un grande greggio ad eseguire gli ordini dei partiti centrali che in fondo sono portatori degli interessi del nord che penalizza le margini al sud. Quindi per equazione infrastrutturale è quella fiscalità di vantaggio di cui tanto si parla ma che non riesce a vedere la luce. Queste cose o si realizzano o si prende atto che l'Italia è divisa in due, anche non dico soltanto dal punto di vista economico sociale, quest'anno stiamo celebrando i 150 anni, per la verità io sostengo che questa unità non è stato un grande affare, non perché voglia sostituirvi la secessione, ma perché unità vera non ce n'è stata e finalmente potremmo cominciare a costruirla. A partire da che cosa? Da maggiore responsabilità, da questo federalismo che ci impone dei costi alti, che finalmente ci costringe, ma meglio così a voltare pagina, a smetterla con gli sprechi, con gli sperperi, con i clientelismi, con gli assistenzialismi etc., ma non c'è dubbio che ci vuole anche quella parte che lo Stato deve fare di perequazione infrastrutturale, perché indubbiamente la ferrovia Catania-Palermo non la poteva fare la Regione, potevano farla quelle ferrovie dello Stato che non ci hanno investito un Euro e che ci costringono eventualmente a percorrerla, sono 180 km in 4 ore e mezzo, molto meno della metà della Roma-Milano che si percorre in più del doppio del tempo, che è il segno chiaro di come questo nostro Paese non si tiene andando avanti così. Anche questo, a proposito di Barcellona e Barone, è un punto programmatico importante. Poi ci vuole un partito di popolo che sostituisca all'appartenenza formale, una vera e propria militanza che faccia finalmente prendere coscienza alla gente che c'è da lottare, che c'è da scendere in campo, che c'è da battersi perché nessuno ci regalerà niente. Questo può essere un nuovo grande partito dei meridionali che non deve essere schierato né a centrodestra né a centrosinistra, ormai il muro di Berlino è caduto, ideologie non ce ne sono, non vale la pena di impiccarsi né all'attuale centrodestra né all'attuale centrosinistra, si facciano degli accordi e si abbia la forza di parlamentari che servono, come servono alla Lega per imporre le sue politiche perché quei programmi vengono rispettati. In caso contrario noi abbiamo decine e decine di parlamentari del Sud, tanti ministri che non fiatano né se l'immigrazione viene affrontata solo dalla regione del Sud, né se la ferrovia Catania-Palermo è nelle condizioni di indecenza in cui si trova, né niente di niente perché stanno lì con la coda in mezzo alle gambe, timorosi che poi non li ricandidano, non li cacciano dai governi, per cui finiscono con l'essere gli Ascari, peggiori traditori del loro popolo. Lei ha parlato di un partito nuovo, il suo movimento per le autonomie quindi va a sciogliersi? Diciamo che costituisce l'esperienza solo quinquennale, non sono passati 50 anni, sulla quale deve innestarsi qualcosa di nuovo e qualcosa di rivoluzionariamente diverso e nuovo. Guardo all'esperienza di tanti partiti autonomisti d'Europa, a cominciare da quelli di casa nostra come il Trentino, ma guardo anche alla forza della Lega che con la militanza, il senso dell'appartenenza e dell'identità territoriale riesce per una serie per carità poi di contingenze quasi fortuite ad imporre al governo la sua strategia e i suoi obiettivi. I suoi detrattori dicono che questa è solo un'operazione di facciata che serve a darle più tranquillità nel governo della Sicilia. Per la verità, visti i risultati, credo che sia il governo meno tranquillo degli ultimi 60 anni, quindi questa accusa o questo rilievo cade da sé perché sono i fatti a smentirlo. Diciamo che una politica di svolta, per carità, portata avanti tra mille difficoltà, tra mille incertezze, perché poi c'è un apparato burocratico che deve attuarla, che frappone mille resistenze, noi stessi che talvolta non siamo decisi, è faticosissima, è pesantissima, comporta spaccature nei partiti, divaricazioni, aggressioni di tutti i tipi e colori, non soltanto di carattere politico, ma o si determina una svolta del genere finalmente, pur tra mille incomprensioni, si dice, un messaggio chiaro si trasmette ai siciliani che o si volta pagina, siamo destinati veramente alla colonizzazione definitiva e allora chi ha quel pizzico di coscienza che serve per fare un'operazione del genere non può tirarsi indietro. Lei pensa che questa debba essere un'operazione siciliana o meridionale in senso lato? Perché in questo caso bisognerà trovare anche qualche tipo di accordo con gli altri governatori regionali? Non c'è dubbio, ma non è un problema di governatori, è un problema di popolo e di politica, in Sicilia questa coscienza c'è, capisco che la Sicilia è facilitata perché è una regione a statuto speciale che ancora nella testa delle persone il significato e il bisogno di autonomia che magari la Calabria piuttosto che la Puglia non possono comprendere che non sono regione a statuto speciale e quindi io dico che questo movimento, questo nuovo partito deve essere un partito che nasce nelle regioni, regione per regione, che ha delle regole comune, un minimo denominatore comune e che poi si organizzi come una federazione di partiti regionali che si muovano come un uomo solo quando si tratta ovviamente di tutte le politiche nazionali perché non si può andare avanti divisi e così appunto ci si fa valere. Intanto in Sicilia dove siamo partiti abbiamo sicuramente una realtà più forte, ci sono dei nuclei di presenza seri in Calabria piuttosto che in Puglia, non si tratta di reclutare deputati, classe dirigente, si tratta di vedere se ci sono uomini e donne, giovani soprattutto, che nelle altre regioni cominciano ad acquisire la coscienza che o ci si organizza autonomamente o si scompare perché i partiti nazionali, piaccia o non piaccia, ieri il centrosinistra, oggi governa il centrodestra, attuano politiche che non giovano al mezzogiorno e alle singole regioni meridionali. Lei ha detto che non vuole essere il leader di questo nuovo soggetto politico e ha lanciato una battuta su Pino Aprile in questo senso. Si è parlato di Saviano, si è parlato di Camilleri, io conosco bene Pino Aprile, ha fatto l'ennesimo confronto sul suo libro venerdì scorso a Marsala, la città dove sbarcarono i mille e quello che conta cosa è che ci siano delle forti leadership democraticamente individuate regione per regione. Dopodiché poi non c'è dubbio che un collante deve essere costituito anche da un uomo che magari non abbia una parte attiva nella politica, ecco perché parlo di un intellettuale che però abbia grande sensibilità politica e che riesca a mettere insieme questi partiti regionali perché soltanto muovendosi insieme si conta e ci si fa valere. Un intellettuale, uno scrittore così come un artista, un poeta piuttosto che un musicista che abbia sensibilità politica è la persona che intanto garantisce neutralità rispetto ai partiti regionali e alle politiche regionali e poi indubbiamente rappresenta e garantisce anche un senso, assicura un senso di novità. Che tempi pensa possa avere questo soggetto politico? Guardi, io ho presentato già un mese fa questa idea, personalmente mi ci batto molto, vedo che in tanti non ci lavorano, lo devo riconoscere. Approfitterò di questi auguri pasquali per vedere il grosso della nostra classe dirigente, ma anche di tanta gente che non è impegnata in politica, mi sono rivolto a loro in tanti incontri che ho fatto, devo dire da Marsala a Enna a Messina, in maniera tale che questo processo abbia un'accelerazione, perché credo che almeno devono aderirci formalmente un centinaio di migliaia di siciliani, basterebbero poi 6, 7 mila, 10 mila militanti, i quali devono avere tutti i diritti, soltanto tra i militanti vanno scelti gli eletti, i rappresentanti, i parlamentari e i militanti sono un corpo speciale come dire, all'interno dei sostenitori che assicurano fedeltà al progetto, coerenza nei comportamenti e continuità nell'appartenenza. Ma questo è quello che ha fatto la Lega più o meno? Più o meno sì, infatti devo dirle che, prescindere dal fatto che questo nostro piccolo movimento esordì alle politiche del 2006 insieme alla Lega con un simbolo comune, nord e sud, quindi ci fu chi gridò allo scandalo per questa cosa, soprattutto gli esponenti dei partiti nazionali che videro in questo legame, in questo rapporto che non si è interrotto mai formalmente, neppure sostanzialmente, videro un pericolo vero, una minaccia vera, non si può camminare insieme, la Lega faccia la sua politica, noi mettiamo su questo grande partito se ci riusciamo, sono risposto a dare una mano, non me ne frega niente più di mettermi in prima linea, ci sono già e Dio sa quanto costa, però quando si sarà fatto questo partito, indubbiamente allora ci si intende tra partiti del territorio, i partiti nazionali col federalismo, nel quale credo anche per questo, non avranno senso, non avranno ragione d'essere. Lei pensa che Berlusconi scioglierà il PDL? Non lo so se lo scioglierà, se ne fonderà un altro, Berlusconi indubbiamente è un classico leader di partito nazionale, non c'è dubbio perché il suo modello, il suo partito, le sue aspirazioni, le sue ambizioni, l'esperienza di governo chiaramente fa sì che non può che essere il partito, non può che essere il leader di un partito che raccolga voti da nord a sud, attorno a un modello liberale, liberista che per la verità non vedo attuato per niente. La decapitazione dei colonnelli che stavano al suo fianco non la può mettere in difficoltà rispetto a questo progetto di nuovo soggetto politico? Ma io non voglio decapitare nessuno, tra queste persone che non definirei neppure colonnello, colonnelli, anche perché io non sono per niente un generale, devo dirla con franchezza veda, io come lei ha detto tante cose, tanti difetti e tanti limiti, ma mi sento un soldato, credo che tra i maggiorenti, tra i parlamentari eccetera ci siano quelli che lo vogliono capire e si vogliono mettere in discussione e loro è giusto che abbiano un ruolo forte anche per l'avvenire, altri che invece credono che si possa vivere di rendita e che le posizioni guadagnate non devono essere messe in discussione, giocando al risparmio e in fondo paralizzando l'azione del movimento che si trasformerebbe in un piccolo partito tradizionale che non avrebbe nulla da dire e nulla da dare, ma se permettete rispetto a una versione minimalista dei grandi partiti nazionali, la gente preferirebbe andassere nel PD e non nel PD. Un'ultima domanda Presidente, lei pensa che l'inchiesta giudiziaria che la riguarda e che in questi giorni è praticamente su tutti i giornali, sia limitativa della sua azione politica nei prossimi mesi? Non c'è dubbio che sono limitativi, sono limitativi in tutti i sensi, certamente, però questa indagine credo che poi alla fine, fra dieci anni, se Dio vorrà, potremmo vederla con una obiettività che il viverla sicuramente non consente, si inserisce complessivamente in questa vicenda politica e umana che abbiamo messo su e che chiaramente vede lungo il suo percorso, un percorso irto di ostacoli, anche questa vicenda della indagine giudiziaria che mi interessa. Veda rispetto al saccheggio delle risorse, ma soprattutto dei consensi e delle speranze, che i grandi partiti nazionali dal 1946 ad oggi, quando conquistammo l'autonomia, senza saperla usare perché non ci dotammo, a differenza dei valdostani che so io o dei trentini, di una forza politica autonoma, questa esperienza e questo tentativo autonomista sconvolge quegli equilibri e quindi non mi meraviglia che anche culturalmente in buona fede, dal punto di vista culturale è in buona fede, ma anche in grande malafede da parte degli esponenti, degli interessi che stiamo toccando, ci sia una reazione durissima e quindi chiaramente tra i tanti ostacoli o tra le tante difficoltà c'è anche questa indagine, rispetto alla quale parlare oggi potrebbe essere come è naturale che sia influenzato dall'interesse personale che ciascuno di noi vi ha, anzi che io vi ho, vista fra dieci anni forse meriterà un'analisi e una valutazione diversa da quella che le cronache invece gli attribuiscono. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.